L'Ele Adani è stato un collega di lavoro per tanti anni, molto preparato. Se mi posso permettere, un po' preconcettuale su certe cose, però è tipico di chi ha il pensiero molto forte. Chi ha un pensiero molto forte cerca di, con grande trasporto, perché è un emotivo l'Ele, cerca poi di trasmetterlo agli altri. Cassano. Spesso le cose che urla più che dire, diciamo che vengono riferite a noi del club, come se ce l'avessero con noi del club. Si diceva che ce l'avessero con Dicanio nell'ultima uscita, invece proprio a Riene hanno messo un po' a porso le cose e ha detto di no. Quindi ce l'avessero con qualcun altro, forse parlavano in generale.